Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci, e se ci riesci, fammelo sapere nei commenti. Grazie a tutti. 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 Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci, e se ci riesci, fammelo sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci, e se ci riesci, fammelo sapere nei commenti. Dicono che sia quasi impossibile riuscire a premere lo spazio tra il cuore e il segui. Provaci, provaci, e se ci riesci, e se ci riesci, fammelo sapere nei commenti. Grazie a tutti.